Ed eccoci qua Finalmente sto testando la 500 Abarth col cambio manuale Guardate un po' Cambio manuale Ma dopo prendiamo la costrata Dove ci porti? Adesso arriviamo sempre fino a verso la salaria E poi prendi la 24? Si No, veramente? Si E se dovessi trovare traffico? No, non mi pare che ci fosse tanto traffico Come ho fatto a vederlo? Dalla rampa Dalla rampa, mamma mia che visuale Proprio occhio da autista Da chauffeur Da chauffeur Cosa dice? Chauffeur No, no, chauffeur Chauffeur Che è? C-H-O-U-I Stiamo ascoltando M2O Ma io penso che O si spegne O si cambia proprio Ma non si sente Ma non si sente? Vabbè Sì, mi愈 Difficile Difficile Un petit Un petit Un petit Water Avec Anche Sportif Grante Grande. Eh, ma questo è più da spot pubblicitario, Paolo. Siamo più adattati a questi spot. Davanti a noi c'è una bella macchina. La Ford Focus. Ti piace? So che è una macchina che corre, può raggiungere i 190, cioè poi diventi dall'allestimento. Quindi ti parlo della macchina dalla velocità oppure le valuti dalla comodità? Ok, la comodità. Però le prestazioni, naturalmente, sono quelle. Certo, ci vuole la comodità, naturalmente, perché se c'è una macchina sportiva, ma è come se te sedessi su un chiodo, devi lasciar perdere. Mazza, è bella, è una bella sensazione. No, ti fermi. Dovevamo prendere sin da subito l'A24. Camera man, se vuole, vuole pure so fare di prendere da dopo. No, ma non lo so fare, quindi... Ah. Lasciamo così. È un camera man e non sa usare la sua ricamina. Ma io non faccio video, io faccio foto al massimo. È vero, non è come un certo Simone di Lago. Ah, questo è il volume, ok. Grande, l'aspettavo questa. Aspetta, alzo io, alzo. Vabbè, allora basta, ok. Ma sai che l'aspettavo? Non era questa, mi sto confuso. Era un'altra. Vabbè. Siamo a finestrino, ragazzi, perché fa un caldo bocca. Non è male il suo giardino. È come Celestine, la topolina di Pennac. Sì. Sì. Il cambio, comunque, un pochino duro, ma alla fine, basta che premi fino in fondo la frizione. Vabbè, vabbè. Non ci sono già abituato. Per fortuna, dall'altra parte non sembra essere citrato. Proviamo un attimo. No. Come no? No, lasciano perdere. Perché? Non ti piace? Sì. 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 Beh, vabbè, 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 c'è il Land Rover. C'è il Land Rover che mi sta. No, 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 no. Ciao, ciao. Accendi la luce! Accendi la luce! Placid Sp入 Prendiamo pure il raccorto, visto un verso andiamo fino all'uscita palmiro degli atti, niente mare bellissimo l'hai inserita alla sesta? no, alla sesta non c'è la stessa macchina come la c'è la? guardate dai coglioni, cazzo lampeggia, no? non lampeggia guarda quanto stiamo, 180? ok 180 ragazzi posso terminare qua il video? come vuoi e con questa bella macchina davanti a noi che gira a destra come noi vi saluto anzi, un saluto ciao dal pilota dalilio e greg ah ricordate se lasciate la strada vecchia per quella nuova arriverete prima è asfaltata